Morgane Detective Geniale 2, trama ed anticipazioni della nuova stagione Morgane Detective Geniale ha riscosso molto successo nel corso della prima stagione, sia in Francia, dove la serie è nata, sia in Italia. La seconda stagione sta per arrivare e verrà trasmessa su Rai 1 come è successo con la prima. Ovviamente ci sono alte aspettative ed è già trapelato qualche dettaglio sulla trama e su quello che succederà a Morgane. Dopo la prima stagione, che ha avuto un grande successo su Rai 1, dopo essere stata trasmessa in Francia, Morgane Detective Geniale sta per andare avanti, con una nuova stagione. Nel corso dei mesi autunnali, andranno in onda le nuove vicende che Morgane dovrà affrontare. Secondo quanto trapelato sulla trama, la 38enne addetta alle pulizie continuerà a collaborare con la pulizia di Lille. Nonostante il suo lavoro sia ben diverso, infatti, è il suo intuito e la sua intelligenza a renderla fondamentale per risolvere crimini di vario tipo. Tutti si rendono conto delle sue grandi capacità e per questo motivo Morgane viene promossa. Alla Detective vengono assegnati dei crimini particolarmente efferati ed inquietanti, ai quali nessuno ha trovato una soluzione. Morgane Alvaro viene a sapere di avere un quoziente intellettivo pari a 160, tra i più alti dell'intera popolazione mondiale. Ciò significa che si tratta di una risorsa davvero preziosa per le autorità, che difficilmente potrebbero trovare qualcuno in grado di competere con lei. Per questo motivo, Morgane accetta di portare avanti la collaborazione con loro e supportarli con i casi più complessi, ma inizia ad emergere la verità sul suo passato. Infatti ha avuto dei problemi con le autorità in passato e per questo motivo lavorare fianco a fianco con il distretto potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Intanto, anche nella seconda stagione non mancano le difficoltà con i suoi tre figli e i suoi due ex mariti. Anche i rapporti interpersonali con i vari poliziotti sono più difficili del previsto e non mancano scontri, ma nemmeno qualche infatuazione. La seconda stagione di Morgane Detective Geniale è stata confermata durante lo scorso anno. All'epoca si era detto che la serie era in fase di scrittura e che ci sarebbe voluto diverso tempo per avere una nuova stagione. In realtà, i tempi sono stati più brevi del previsto e a maggio del 2022, Morgane Detective Geniale 2 è stata trasmessa in Francia. Nello specifico, la fiction va in onda su TF1. In Italia, non ci sarà bisogno di attendere ancora molto per assistere alle vicende dell'intelligentissima detta alle pulizie. Infatti, secondo i palinsesti attuali, a meno che non ci siano dei cambiamenti, la messa in onda dovrebbe essere prevista già per i mesi autunnali. Entro la fine del 2022 la fiction dovrebbe essere quasi sicuramente trasmessa. Per quanto riguarda le curiosità sulla nuova stagione, Patrice Onfray, il produttore esecutivo della serie, ha spiegato che c'è stata una lunga fase di scouting e di ricerca degli attori più adeguati per rappresentare i vari casi. Inoltre, il produttore ci ha tenuto a precisare che si è deciso di optare per le stesse località della precedente stagione per portare avanti le riprese. La fiction sarà quindi ambientata nell'Alta Francia come è già stato in precedenza. Nel paese in cui è stata ideata, Morgane Detective Geniale è una delle serie più seguite e amate. La prima stagione venne seguita da 11 milioni di telespettatori, trasformandola nella serie e crime più vista in assoluto, anche al primo posto rispetto ad altre fiction storiche come La Promesse. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito la prima stagione di Morgane Detective Geniale e state attendendo la messa in onda della seconda, oppure non la seguirete? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!